Ciao a tutti. Nuovo mezzo in officina, questa volta si tratta di una Yaris con motore 1.4 turbodiesel. Questo è un motore iniezione diretta, è lo stesso motore che monta la MINI-D. È stato progettato in collaborazione con BMW, con MINI, ed è il primo motore turbodiesel di Toyota con il basamento in alluminio. Questa macchina ha circa 170.000 km, funziona bene, l'unico difetto che ha è che quando fa molto caldo e si va in autostrada per parecchi chilometri con il condizionatore acceso, va su di temperatura e gli viene ebollizione l'acqua. Sono state fatte diverse verifiche dalla Toyota, quindi le ventole funzionano, il tappo del radiatore è nuovo e tutte le cose che si cercano di fare per escludere il problema più grave, e cioè la guarnizione di testa. Per esclusione è rimasta solo quella, anche se non ci sono i classici sintomi della guarnizione di testa, diciamo, compromessa, e quindi la andrò a sostituire. Visto che andrò a smontare buona parte del motore, probabilmente andrò a fargli anche la catena di distribuzione. Ma iniziamo subito a smontare un po' di cose di contorno per vedere meglio il nostro motore. Dovrò lavorare in questa zona e togliere completamente la testa del motore. Quindi cominciamo a fare un po' di spazio e a togliere un po' di accessori che stanno in giro. Di questa fase non riprenderò molto, scherzavo, e ve lo faccio il video, dai. Cominciamo togliendo l'intercooler. Carino questo intercooler. Adesso mi prendo la misura qua del manicotto. Vorrei smontare il meno roba possibile, quindi cercherò di togliere i vari pezzi a blocchi. Per esempio, tutte queste valvole qua, adesso vado a smontare questa staffa e cerco di lavare tutte insieme. Il grigio va a sinistra e il nero va a destra. Quindi grigio, nero. Ce lo scriviamo. Per smontare la testa dobbiamo sicuramente smontare l'aspirazione, lo scarico e gli iniettori. Il correttore d'aspirazione su questo motore non esiste, perché è integrato con la testa. Quindi abbiamo solo la farfalla da togliere, che è questa. Invece la turbina ce l'abbiamo là dietro. Direi che mi dedico subito alla turbina e poi provo a togliere gli iniettori. Perché sono la parte più critica di questi motori. Gli iniettori e candelette. Potrei intanto... Allora, cominciamo da questa. Questa come è fissata? L'aria è in condizioni abbastanza pietose. Allora, il collettore di scarico è pazzo unico con la turbina, con la parte calda della turbina. Quindi per ora la lascio un attimo lì e poi vediamo se si riesce a togliere tutto insieme. Provo giusto a sganciare il downpipe, che è quello che va sganciato per forza, e vediamo un attimo. Allora, il collettore di scarico di scarico di scarico di scarico di scarico di scarico. E' passata circa un'oretta e mezza e sono arrivato a questo punto. I pezzi più critici da togliere erano i iniettori, che a volte si incastrano e non c'è verso di sfilarli, candelette che si possono spezzare dentro la testa e i dadi della turbina che si possono grippare. E' venuto tutto via bene e questa è un'ottima notizia. Adesso per poter togliere la testa, devo prima aprire il coperchio punterie, togliere la pompa ad alta pressione, togliere l'albera cam, sganciare la distribuzione, e a quel punto posso svitare i bulloni della testa e sollevarla. Prima di far questo direi che vado sotto la macchina, scarico l'acqua dal radiatore, l'olio motore perché tanto lo cambierò, e vado anche a vedere se si riesce a sganciare il primo pezzo della marmitta, il downpipe, perché qui ovviamente è bloccato sulla turbina. Ora, tirandolo probabilmente riesco a sfilarla lo stesso, però se riesco a mollarlo sotto, per avere un pochino più di margine, preferisco. L'ultima incognita che rimane è la distribuzione, che devo per forza smontare per poter togliere la saccam, e mi serve spazio per lavorare qua davanti. E quindi devo un attimo capire come fare. Quindi adesso ci spostiamo a lavorare di qua, dove lo spazio è veramente limitato. Prima di aprire qua davanti, scarico l'olio perché la distribuzione di questa macchina è a catena, e quindi è all'interno del motore, non all'esterno. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è sotto. Sto scaricando olio e acqua. Ho tolto tutta la plastica qua sotto, e adesso passerò a lavorare in quella parte del motore. A togliere tutte le cinghie servizi, e tutto lì dietro è tutto sporco d'olio, e devo vedere un attimo perché. Da questa parte direi che il posto migliore per lavorarci è da sotto, perché c'è molto più spazio. Adesso lascio colare bene tutto, e domani riprendo. Qui sto inquadrando da dietro la ruota anteriore destra, e vediamo le cinghie servizi, che adesso devo andare a togliere. Allora, inizio da questa. Questo è il compressore dell'aria condizionata. Questa qui sopra dovrebbe essere la pompa acqua, e sopra c'è ancora l'alternatore. La tensione di questa cinghia è fatta dall'alternatore, quindi adesso lo vado ad allentare, e mollo da poterla togliere. E quest'altra cinghia qui, invece, direi che è la pompa dell'idroguida, a vederla così, e si molla allentando la pompa stessa, credo, da quel braccietto lì. Adesso vedo un attimo. Allento un po' tutto, e direi che poi devo solo togliere questa puleggia qua, e dovrei riuscire a passarci con la pistola. Se non ci passo, basta sganciare il supporto motore, da questo lato, e far scendere appena appena al motore, e a quel punto ci arrivo. Quindi adesso, per lavorare un po' più comodo, levo anche la ruota, che adesso è ancora montata, e da sopra invece vado a smontare, l'alternatore. Il supporto motore che dicevo è questo, e l'alternatore per mollarlo, basta mollare questa vite qua, spingerla un po' più avanti, a quel punto la cinghia si molla, e la possiamo togliere. Cominciamo subito con questo lavoro. Tolgo direttamente tutta la staffa, perché tanto è fissata la testa, e quindi poi dopo mi darebbe fastidio. Per l'idroguida, il tiraggio si fa mollando questo bullone qua, che ci va anche di fortuna, che ci è capitato dentro l'asola della puleggia. Ora dobbiamo solo riuscire a infilarci una chiave, ed allentarlo. Ok. Adesso abbiamo tolto tutto, caliamo il motore un goccettino, e andiamo a lavorare qua sul carter della distribuzione, quindi devo mollare questo per forza. Ho mollato il supporto motore, ci sono due viti da sopra e una da sotto, quindi abbiamo un dado messo da sotto, che credo che sia una sicurezza per evitare che qualcuno, svitandole, si trovi il motore sui piedi. Quindi questi sono tolti, li lascio qua giusto per comodità, e sotto ho messo un cric a pantografo per tenere sul motore e poterne facilmente regolare l'altezza. L'ho già abbassato un po', e adesso ho il bullone della pulleggia principale, perfettamente a vista, quindi adesso vado ad allentare quel bullone con la pistola, levo la pulleggia, e andiamo avanti. Ok, questa è la nostra pulleggia. Sicuramente andrò a cambiare questo paraolio qua, visto che ce l'ho a portata di mano. adesso mi sposto di sopra, comincio a aprire le coperche punterie, e poi penso che toglierò questa pulleggia, la pompa acqua, il supporto motore, e infine tutto questo carter qua. Qui adesso abbiamo il motore appoggiato da questo lato, quindi non è più appeso da qua, la staffa probabilmente andrà tolta, ma adesso inizio a aprire il coperchio punterie. Purtroppo l'impianto elettrico non riesco a sganciarlo completamente, quindi ce l'avrò sempre un po' in mezzo, ma vabbè. Andiamo a mollare tutti questi bulloncini qua, che sono dei 10. Leviamo anche questo. Ok, nella parte superiore direi che ci siamo, e tu? Ma sei vivo? Tenne un po' qua, dai. Dai, che non ti voglio qua mentre lavoro, su. Adesso vado a togliere la pulleggia sulla pompa dell'acqua, qua, cioè questa, perché mi copre uno dei bulloni che fissa il supporto motore, che devo togliere, perché a sua volta il supporto motore, ma anche la pompa dell'acqua stessa, vanno a bloccare il carter, che chiude la distribuzione. e questo carter lo andremo a togliere. Quindi, se riesco a entrarci, usiamo questa chiave, che non ci passa. cosa l'ho comprata a fare? Allora, così non riesco a entrarci, abbassiamo ancora un po' il motore. Usando una chiave con i perni, tengo ferma la pulleggia della pompa acqua, e svito i suoi bulloni. Già che ci sono, smonto anche la pompa acqua, perché l'andremo a mettere nuova. Tanto questa qui è già stata sostituita. Su questa pompa qualcuno ci ha già messo le mani, perché tutta questa pasta nera sicuramente non è originale. E anche il fatto che mollando appena tre bulloni esca già tutta quest'acqua, comunque non è che mi piaccia molto. Allora, restringiamo un attimo, che recupero una vaschetta. però che non esce. Non esce solo per questo. No, beh, in realtà ovviamente basta fare così, così. Allora, la pompa dell'acqua era stata rimontata con della pasta nera. Lavoro abbastanza discutibile. Comunque, adesso posso togliere questo bullone qua, che è l'ultimo in basso del supporto motore, e a quel punto posso andare a togliere tutto questo carter. Sul carter qua c'è un tappo, dove c'ho il dito adesso, che però sto facendo ombra, lì, che è quello che ci permette di lavorare sul tendi catena della distribuzione. Aprendo quel tappo lì, possiamo bloccare il tendi catena, tirarlo indietro, in modo da poter, per esempio, smontare l'asse a cam senza smontare tutto il carter, come sto facendo io adesso. Ma visto che io dovrò togliere tutta la testata, comunque il carter devo sganciarlo per forza. Se invece dovete solo fare, diciamo, lavori alla parte superiore della testa, potete semplicemente allentare il tenditore da lì, legare la catena in modo che non cada giù, tipo con un fil di ferro, e a quel punto lavorare alla parte superiore. Allora, andiamo a togliere quello che è fissato con una 14 ed è anche molto stretto. L'avevamo già visto con gli altri. La parte anteriore del motore adesso è libera. ora levo questo carterino di plastica che ha due bulloncini qua dentro e a questo punto vado a togliere tutti i bulloncini che fissano il coperchio anteriore. In pratica arriviamo ad aprire il motore fino a qui. a questo carterino qua ha una specie di schiuma dentro che penso che serva per assorbire le vibrazioni del motore in pratica per abbassare il rumore. adesso devo mollare tutte le viti e tutti i dadi che vedo lungo il perimetro di questo carter però inizio da sotto perché è un po' più facile arrivarci. qui ho tolto tutto quello che c'era passiamo di sopra adesso alzo un po' il motore perché devo togliere anche l'alternatore ce ne sono tantini i bulloni da togliere in sta macchina ho tolto tutti i bulloni che fissano questo carter quindi adesso facendoci leva dovrebbe sganciarsi ci sono vari punti tipo questo fatti apposta per fare leva adesso troviamo quello più comodo e vediamo cosa succede si è scollato bene su tutto il perimetro ma c'è qualcosa che me lo trattiene e non capisco cosa ok allora il carter l'ho sganciato l'unico problema adesso è farlo uscire direi che l'unico è farlo uscire da sotto perché laggiù tocca non ci passa di pochissimo quindi riabbasso il motore appena appena poi invece voglio vedere rimetterlo ok questo è il nostro carter direi che non ha la guarnizione ma si chiude con pasta nera a vederlo così credo che sia già stato aperto perché la pasta non è messa benissimo ci sono un po' di accessi qua e là e quindi credo che sia già stato aperto adesso dobbiamo solo sbloccare il ten di catena portarlo indietro e smontare questa puleggia a questo punto possiamo andare a togliere l'albero a cam e infine la testa a cui però abbiamo ancora attaccati il collettore di scarico con la turbina quindi prima di sganciare il tenditore però voglio capire la sua corsa di quanto è fuori perché questo mi serve per riuscire a valutare quanta vita ha ancora la catena cioè il ten di catena ha una certa corsa possibile quando la catena si allunga troppo il ten di catena non ce la fa più a tirare e quindi diventa rumoroso se noi come corsa del ten di catena siamo diciamo sotto la metà della sua corsa significa che la catena è ancora buona e quindi vorrei in qualche modo prendere delle misure allora il nostro ten di catena è fuori di esattamente 5 mm il nostro ten di catena è fuori di esattamente 5,1 mm preferisco di gran lunga i motori longitudinali tutta colpa del signor mini signor mini un giorno arriva e dice ma se noi il motore lo mettiamo per così guadagniamo un sacco di spazio nella macchina si e poi i meccanici però bestemmiano devi farti i c***i tuoi e lasciare i motori girati nel verso giusto no esattamente ok questo è il nostro tenditore ora vi faccio vedere come funziona questo è il nostro tenditore normalmente adesso lo tiro un attimo in dentro questa levetta sta in questa posizione così quindi lui può uscire ma non può rientrare quindi man mano che la catena si allunga lui ogni tanto fa uno scatto e rimane bloccato e avanti così quando arriva in fondo non riusci più a tirare se la catena si allunga ancora la catena farà rumore visto che era fuori solo di 5 mm cioè praticamente era così direi che la catena è praticamente nuova quindi o è già stata rifatta oppure effettivamente a pochissima usura perché abbiamo ancora due terzi di corsa utile circa quindi tenendoci un po' di margine possiamo dire che questa catena è a un terzo della sua vita quindi la lascio stare o meglio la smonto perché devo smontare tutto il resto però non la vado a sostituire tra l'altro anche i pattini non hanno scalini questa è un'ottima notizia perché andiamo a risparmiare circa 150 euro grosso modo di pezzi perché grosso modo i kit che poi alla fine ti danno catena pattine tenditore o alcuni ti danno anche le pulegge eccetera almeno 150 euro ce li vai sempre a spendere per semplificarmi un po' il lavoro potrei cercare di bloccare la catena sugli ingranaggi in modo che non mi cambi di posizione così poi per farla messa in fase mi basta solo ributtarla su verificare l'allineamento ma magari faccio un po' prima quindi ci butto una bella fascetta qua per legare la catena a questa puleggia e là sotto vado a mettere una fascetta che stringa la catena sopra al pignone in questo modo non dovrebbe muoversi non che sia complicato andare a mettere in fase tutto però se con due fascette riesco a risparmiarmi anche solo un quarto d'ora non mi dispiace come idea quindi facciamo così una ok dopo che ho mollato la puleggia che quindi tutto tenderà a scendere la vado a stringere là sotto e poi la lascio penzoloni legata da qualche parte per togliere questi adesso devo bloccare la puleggia con una chiave tipo questa che è quella che ho usato anche per la pompa dell'acqua questa l'ho comprata di recente ne ho già comprata anche un'altra che mi arriverà tra qualche giorno un po' più bella perché è il pin sostituibili e quindi puoi scegliere le dimensioni come sempre qui sotto in descrizione al video vi lascio i link degli attrezzi un po' particolari che uso durante i miei lavori quindi ricordatevi sempre di andare a dare un'occhiata alla descrizione del video perché lì vi lascio tutti i riferimenti di quello che vedete ok la catena l'ho lasciata lì appesa l'ho fascettata in modo che non si sposti e non dà fastidio effettivamente potevo anche toglierla ma vabbè l'ultimo bullone che dà fastidio da questa parte qui è questo che tiene questo pattino qua che adesso lo vado a togliere rispostiamo l'impianto elettrico da questa parte e torniamo a lavorare qua sopra allora per poter smontare la testa dobbiamo ancora sganciare un paio di manicotti di qua queste masse e questo sensore togliamo l'asse a cam e rimane anche tutto il problema marmit ma lì conto di riuscire a sollevare tutto con turbine e collettore attaccato perché lavorare là dietro è veramente impossibile quando si smontano queste parti qua bisogna utilizzare una sequenza incrociata partendo dall'esterno andando verso l'interno che poi è esattamente l'opposto che si fa quando si va a rimontare la roba questo è soprattutto importante per la testa viene anche scritto nel modo dell'officina e poi quando lo andrò a mollare utilizzerò la sequenza che specificano loro precisa perché se andiamo a mollare i bulloni a caso rischiamo che la testa si vada a cliccare oltre a smontarli nella sequenza giusta vanno anche smontati a step quindi prima si allentano leggermente tutti e poi si vanno a mollare definitivamente i cappellotti che tengono l'albero a cam dovrebbero avere un numero e un segno esatto qua c'è una freccia che ci indica il lato della distribuzione e il numero 5 perché questo è il quinto 1 2 3 4 5 questo è molto importante perché questi supporti qua sono accoppiati alla testa e poi lavorati insieme quindi se io questo lo sposto dall'altra parte non avrò l'accoppiamento corretto e quindi vengono numerati in modo da avere la posizione precisa albero a cam è in ottime condizioni non ha particolari segni o zone lucide o graffi o cose di questo tipo e questa ovviamente è un'ottima notizia qui abbiamo i bilancieri classici bilancieri diciamo a dito che hanno la regolazione del gioco valvole io mi segnerò la posizione per rimetterli esattamente dove erano anche se poi in realtà il gioco valvole dovremmo andare a farlo perché facendo smerigliare le valvole comunque andrà a cambiare questo motore è un'ottovalvole fortunatamente allora la sequenza sarebbe uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci vabbè me lo tengo qua ho capito ho qui la sequenza con cui smontare i buroni della testa cominciamo ad allentarli leggermente quindi si parte da questo un'ottovalvole un'ottovalvole la testa è venuta via ora che sono più comodo vado a togliere i dadi del collettore di scarico questo sensore e la testa è pronta per andare in rettifica guarnizione che cambieremo ora controlliamo che non ci sia nulla di attaccato da nessuna parte togliamo il sensore di temperatura dell'acqua e questi piccoli appoggi che sono quelli dove vanno le staffe che fissano gli iniettori perché altrimenti poi ce li perdiamo nella vasca di lavaggio l'unico altro pezzo che c'è ancora montato sulla testa sono gli appoggi dei bilancieri che però sono avvitati e quindi li lasciamo stare lì la testa è pronta per andare in rettifica diamo una controllata come sta il basamento qua c'è della roba strana questa è emulsione di acqua e olio quindi la diagnosi della guarnizione di testa bruciata probabilmente corretta questo invece non è per niente bello questa è pasta nera che andava a tappare un passaggio questo è il motivo per cui bisogna stare molto attenti quando si usa la pasta nera sui motori perché succede questo vediamo se c'è qualcos'altro di strano allora tiriamo sulla guarnizione e cerchiamo di guardare gli anelli sono tutti belli foliginosi quindi qualche problema c'era ora non vedo rotture anche perché comunque il motore girava bene dava problemi solo in alcuni casi particolari però questa roba bianca nel pistone che poi è acqua mischiata a olio e questi puntini bianchi qua soprattutto mi fanno pensare che entrava acqua in questo cilindro ok allora sul basamento darò semplicemente una bella pulita controllerò con una riga che il basamento ne sia imbarcato e bisogna anche misurare il deck del motore cioè quanto i pistoni sporgono rispetto al basamento e in base a questo sceglieremo la guarnizione di testa che ne esistono mi sembra cinque tipi e ne capiamo lo spessore guardando queste tacche qua quindi queste tacche qua ci dicono lo spessore della guarnizione e sul manuale d'officina abbiamo lo spessore corretto a seconda di quanto esce il pistone rispetto al basamento prima di andare avanti già che ho il motore aperto vado a dare una misurata ai cilindri per vedere se sono ovali e capire che grado di usura hanno quindi prendiamo il nostro comparatore centesimale lo inseriamo all'interno ci mettiamo in alto lo muoviamo in questo senso in modo da trovare il punto dove marca la misura maggiore che è a circa qua e azzeriamo lo strumento ricontrolliamo un attimo il punto maggiore è questo adesso scendiamo cerchiamo sempre il punto maggiore e ancora a zero qua siamo a metà andiamo giù fino in fondo cerchiamo il punto maggiore ed è ancora a zero quindi in questo senso non ha nessun effetto diciamo botte adesso ruotiamo lo strumento da questa parte e facciamo la stessa cosa sopra spero che si veda il punto maggiore è qua e ho mezza tacca in più qua siamo a zero al centro siamo a zero e in fondo ho di nuovo mezza tacca in più visto che questo strumento è centesimale quindi ogni tacca è un centesimo di millimetro questo cilindro ha un'ovalizzazione quindi una differenza di diametro tra questa direzione e questa direzione di mezzo centesimo cioè in questo senso che è quello dove abbiamo maggiore usura il diametro è mezzo centesimo in più invece come misura alle tre altezze sono praticamente sempre uguale ho trovato solo quella in alto leggermente diversa dalle altre due in questo senso ma di nuovo di mezzo centesimo potrebbe anche essere un errore di misura adesso misuro per sicurezza anche gli altri tre ma direi che la salute di questo motore è ottima un'altra verifica da fare è prendere una barra rettificata appoggiarla così e sulle diagonali e misurare con uno spessimetro quanto spazio abbiamo sotto per vedere che il basamento non sia imbarcato questo motore ha i perni che chiudono la testa molto lunghi che arrivano in basso e la parte sopra non è filettata e questo è un bene perché sui motori che hanno la filettatura diciamo che arriva nella parte alta il metallo del basamento tende a salire e quindi abbiamo diciamo delle diciamo montagnette in corrispondenza dei fissaggi per esempio il motore che ho rifatto l'anno scorso del mio Bedford Rascal dove avevo spianato sia il basamento che la testa a mano aveva proprio questo difetto se vi siete persi i video vi lascio qua sotto in descrizione la playlist dove ho ricostruito tutto il motore e dove ho anche fatto un po' di modifiche adesso pulisco bene le superfici faccio questa misura e la testa invece la porto in rettifica perché gli faremo fare il test di tenuta idraulica cioè nella testa verranno tappati tutti i passaggi acqua verrà immersa in una vasca di liquido a 90 gradi e poi verranno messi in pressione i condotti per vedere che non ci siano microcavillature crepe o cose di questo tipo se dopo queste verifiche risulterà tutto a posto la testa la farò spianare rettifica delle sedi valvole e quindi andrò a rimontare tutto quindi se volete vedere come proseguirà il lavoro su questo motore iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina grazie a tutti al prossimo video grazie a tutti 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 grazie a tutti